Sono fissati, fissata con inferrorossi. Questa è una sauna ad inferrorossi, pannello inferrorossi. Ci mette anche un pannello di inferrorossi sotto i piedi. Questa è la mia nuova passione, ci sto studiando tantissimo. Perché una sauna inferrorossi disintossica il corpo. Sauna inferrorossi ti aiuta a buttare 800% più tossine di una sauna svedese. I inferrorossi aiutano a disintossicare il corpo, guarire problemi tendinei. Per esempio io sto combattendo con una pulvagia da mesi. Ogni sera mi metto dentro la mia sauna per 20-30 minuti, sudo come un forzanato. Non sudi così in una sauna normale, sudi tipo il doppio. Ti senti liberato, il cervello si sente molto più libero. Ah! Gli inferrorossi aumentano il metabolismo, così brucio più calorie. Ok? Però, perché ti sto parlando di una sauna inferrorossi? Perché Be Good ha dermofibra che crea quella, quella banda ad inferrorossi. Allora, andiamo prima per il calore. Perché noi diciamo, mamma mia, sto andando verso la primavera, io non voglio sudare. Non sudi con Be Good perché è traspirante. Gli inferrorossi non riscaldano l'aria circostante. Ok? Una sauna inferrorossi, in confronto a una sauna svedese, lavora quasi 40% in meno di calore circostante. Ok? Una sauna svedese crea vapore che riscalda l'ambiente. E tu cominci a sudare. Invece, non sono gli inferrorossi, ma hanno degli inferrorossi che non riscaldano l'aria, penetrano indirettamente la cute, scendono in profondità fino a 2 cm di profondità e cominciano a interagire sull'acqua per aumentare l'osmosi cellulare e il drenaggio, riscaldano la muscolatura e hanno un effetto anche per l'ipolitico. L'ipolitico vuol dire stimolo dei grassi sottocutanei di essere rilasciati, così per tutti i miei amici che vogliono migliorare gli estetismi delle cellulite. Abbiamo uno studio scientifico, che lo metto qui, studio scientifico, studio scientifico. Vedi la foto qua, vedi come il microcircolo è migliorato, vedi come l'ADP è migliorato, anzi la mancanza di adipe è migliorata in 28 giorni, questo è scientificamente provato. E questa dermofibra è come indossare la sauna. Così mi tratto in modo magari un po' più potente di sera, ma non posso girare con una sauna inferrorossi tutto il giorno. Lo indosso e mi dà un effetto benefico. L'altra cosa è che abbiamo un'amica che si chiama Rosa, magari ve lo metto un clip proprio qua, ti faccio ascoltare queste testimonianze di Rosa, dell'effetto antidolorifico. Andiamo a ascoltarlo insieme. Allora, ho 56 anni, ho fatto due interventi pesanti, di cui uno alla colonna, e poi un problema un po' particolare di origine reumatica. Ecco, io vi dico solo ho ordinato il terzo paio di Be Good, perché da quando l'indosso ho trovato un sollievo al dolore che non credevo possibile. Cioè io non ne faccio a meno, quando per caso non l'indosso ne risento. Ho beneficio sulla muscolatura, mi tiene quel tepeurino che proprio mi dà sollievo sia al muscolo sia proprio a livello di dolore reumatico. E quella è la cosa meravigliosa, che oltre ad aiutarti a livello estetico, e questo te ne accorgi subito, ecco. Ma poi proprio il beneficio a livello di salute, di benessere fisico, è qualcosa di essere fisico. Avete sentito? Allora, Rosa ha parlato dell'effetto antidolorifico. Io ho anche un'altra amica che lavora con me, mi ha aiutato anche con i dolori mestruali, proprio perché ci aiuta a riscaldare questa muscolatura profonda, portando un'iperterapia. L'ipertermia nel nostro corpo è molto importante perché agisce come se fosse in atto una febbre nel corpo. Così ci aiuta a uccidere le cellule mal sane, perché le cellule sane riescono a sopravvivere a temperature, diciamo, alte. Ma quelli mal sane, no. Ecco perché il tuo corpo, o quando c'è un virus, un batterionato, ti alza la febbre. Ok? Così. L'ipertermia è stato utilizzato dai nostri avi, dagli antichi, da millenni. Ok? Della sauna, i romani avevano i bagni caldi, i bagni termali, tutto è basato sull'ipertermia. Così, quando mettiamo il nostro Be Good, abbiamo in pratica un ipertermianato. Mi raccomando, se vi piace questo video, condividetelo, iscrivetevi al mio canale, ti prego, e metterlo sul tuo bacheco di Facebook. Dai, prendi questo url, stampalo, metti sul tuo Facebook, te lo chiedo facciatamente di aiutarmi, di conquistare il mondo con positività, benessere e sorrisi. Vi voglio bene, passate una giornata splendida. Ciao!